...questa sera il nostro relatore, lo vediamo scritto, è Luca Inaudi e questo è il secondo appuntamento di questa serie di incontri, seminari che abbiamo pensato in connessione alla mostra La moneta dell'Italia Unita che è inaugurata a pochi giorni nella sala qui accanto, se non l'avete vista non potete vederla dopo questo seminario perché chiude alle 8 di sera, però l'accesso è libero appunto dal martedì alla domenica. Questi incontri oramai sono un appuntamento del mercoledì pomeriggio, avete fuori il programma di tutti gli incontri programmati, continueremo mercoledì prossimo col professor Romanelli e poi via via avremo anche Giuliano Amato, Marcello De Cecco, Sabino Cassese ed altri per da un lato allargare anche la visione che abbiamo nella mostra sull'unificazione monetaria italiana e in altri casi anche per approfondire questa storia monetaria italiana come direi avendo sbirciato un po' le slides di Luca sarà questa sera. Quindi il tema è risorgimento, modernizzazione moneta e lascio immediatamente la parola a Luca che ancora con due battute presento perché non l'ha fatto nella sua slide di presentazione, lo vedo adesso. Luca è un economista, è uno storico, lavora anche presso la presidenza del Consiglio, il Dipartimento Affari Economici ma è anche un research fellow presso questo joint History and Economics, sì, oddio vi dimentico, Center for History of Economics di Cambridge e di Harvard Universities e quindi anche un ponte tra Stati Uniti e Europa e tra queste due discipline, storia economica e economics. Buonasera, a presto allora. Grazie, buonasera. Questa mia presentazione di oggi è il frutto in qualche modo di vari anni di studi sulla moneta ma in particolare poi del lavoro di questo, per la preparazione di questa mostra. Il tema di oggi è risorgimento, modernizzazione moneta perché cerco di affrontare alcuni aspetti politici dell'unificazione monetaria ma anche l'aspetto più interessante della modernizzazione economica che accompagna il processo di unificazione monetaria nazionale italiano e un processo più ampio di unificazione monetaria che si svolge a livello europeo in quel periodo e cerco di in qualche modo dare alcune idee per comprendere questi processi paralleli di importanza molto diseguale tra loro ovviamente. Questi sette fattori che ho identificato sono prima di tutto questo punto dell'unificazione monetaria che avviene non solo in Italia ma anche in Germania e in una certa misura anche in Svizzera come vedremo e avviene in parallelo con un processo più ampio europeo che avviene sia tramite i tentativi di unioni sovranazionali che tramite il movimento progressivo nel corso del secolo verso il gold standard che si affermerà in realtà solo alla fine del secolo ma in un'evoluzione progressiva che accompagna le scelte di unificazione nazionale in vari paesi. Accanto a questo vi sono degli aspetti diciamo più tecnici dell'unificazione monetaria e questo è parte di questo processo di semplificazione, di universalizzazione dei sistemi che va dalla decimalizzazione del sistema dell'unità monetaria, si abbandona il sistema duodecimale con 240 denari che facevano 20 soldi e una lira sia in Italia che negli altri paesi dell'Europa continentale ma si adotta anche il sistema del grammo e del metro che vengono introdotti durante la rivoluzione francese in Francia che convoca un gruppo di scienziati europei per definire questi nuovi strumenti di misura che poi hanno avuto la fortuna che hanno avuto e hanno coperto sostanzialmente tutta l'Europa e anche parte del resto del mondo. Accanto a questi altri fattori di modernizzazione ci sta appunto la battaglia degli standard cosiddetta, la lotta tra oro e argento, bimetallismo, lotta che può sembrare oggi un piccolo dettaglio della storia ma che in certe fasi dell'Ottocento ha avuto un ruolo importante, meno in Italia che altrove, però anche in Italia ci si è differenziati in varie fasi tra alcuni stati preunitari come la Toscana e il Regno Sicilia che preferivano un sistema basato solo sull'argento, stati bimetallici come il Piemonte o lo Stato Pontificio e poi stati monometallici che in realtà in Italia sono apparsi solamente sotto forma di unificazione basata sull'oro solo negli ultimi anni dell'Ottocento, mentre la Gran Bretagna aveva già fatto questa scelta nel 1821 ritornando all'oro, conseguenza però di una politica già dall'inizio del Settecento di preferenza per l'oro. Un altro fattore importante di uniformità e di omogeneizzazione, di modernizzazione è questo del franco germinale che è frutto poi anche del sistema del grammo e del metro, perché nel momento in cui si ripensava su basi razionalistiche di tipo illuminista i sistemi di unità di misura, si andava anche a tarare gli altri elementi del sistema economico inclusa la moneta su queste nuove unità, per cui la creazione di un franco germinale con questa bella cifra tonda di 5 grammi d'argento a 900 millesimi, che poi in un sistema in cui si fissava il rapporto tra argento e oro al tasso di 15,5 a 1 definiva poi anche il valore dell'oro in un sistema bimetallico. Questo sistema, chiamato del franco germinale, che viene introdotto formalmente in Francia nel 1803, ma in realtà è già dalla metà degli anni 90 al 1700 che cominciano a essere coniate alcune monete secondo questo sistema in argento in Francia. Questo sistema va poi a essere non solo il sistema francese, ma il sistema di tutti i paesi legati alla Francia, dalla nascita della parte finale delle Repubbliche Sorelle e poi gli stati monarchici soggetti a Napoleone I. La cosa importante è che non solo questo prefigura una prima tentativa, un primo abbozzo di unificazione monetaria italiana, ma anche uno più ampio a livello europeo. Infatti diventerà la base sulla quale poi nel 1865 partirà l'Unione Monetaria Latina, che coinvolge cinque paesi in un tentativo di unificazione monetaria più ampio a livello europeo e con ambizioni anche universali che però non si realizzeranno. Altri fattori di modernizzazione sono appunto questo dell'eliminazione del sistema delle valute di conto di moneta immaginaria, in cui i calcoli inoresi ancora più complessi nel sistema pre-rivoluzione francese dal fatto che non solo esistevano monete diverse tra i diversi stati, non solo circolavano contemporaneamente monete nazionali di vecchi sistemi e di nuovi, straniere, ma in più le monete effettive, cioè gli oggetti di metallo che circolavano, avevano un valore o un uso diverso talvolta dalle monete teoriche immaginarie nei quali si facevano i conti. Questo scompare sostanzialmente con la rivoluzione francese e le conseguenze monetarie anche in Italia, alla fine il periodo napoleonico sono sostanzialmente scomparse, a parte in alcune aree un po' più remote, diciamo, questo tipo di meccanismi di contabilità. Anche la riforma della moneta di rame viene modernizzata con questo processo, perché la prendo separatamente? Perché la moneta di rame è un po' delicata dal punto di vista politico, valore teorico nominale limitato, un uso molto diffuso però tra le classi popolari, tendenzialmente ricognare le monete di rame significa perdere una parte del valore delle monete logore che bisogna sostituire, con il rischio di dover o imporre una perdita all'erario o di doverlo imporre ai detentori, cioè alle classi più povere del paese con rischio di rivolte, per cui per molti decenni in molti stati italiani ma anche in Francia le riforme della moneta di rame vengono rinviate per paura di creare scontento, pur essendo un sistema monetario di rame molto logoro, inadatto e incompleto. L'ultimo fattore, ma forse il più importante di tutti di modernizzazione del sistema monetario dell'Ottocento è quello del ruolo crescente della carta moneta e delle banche di emissione. Quando i francesi arrivano la prima volta in Italia nel 1796, solo due stati italiani hanno emissioni di carta moneta, lo Stato Pontificio e il Regno di Sardegna. Alla fine dell'Ottocento la circolazione monetaria in Italia invece è prevalentemente cartacea e la circolazione monetaria diventa progressivamente residuale, anche se la moneta aurea rimane la base dello standard teorico, la moneta effettiva diventa cartacea e la moneta reale aurea viene sostanzialmente in gran parte tesaurizzata nelle riserve delle banche di emissione. Ora, alcuni di questi punti li affronterò in maniera un pochettino più approfondita. Sulla unificazione monetaria italiana, come parte di un processo più ampio, sicuramente va ricordato che oltre all'Italia, in questo stesso periodo, anche la Svizzera e la Germania fanno un'unificazione monetaria. Bisogna pensare che la Germania aveva cominciato le guerre napoleoniche con circa 200 stati e con il congresso di Vienna nel 1815 ne aveva ancora 70. L'unificazione monetaria tedesca si fa dopo l'unificazione politica nel 71 ed è ancora lì un compromesso, ma viene fatta seguendo un processo di unificazione monetaria teoricamente transnazionale tra gli stati tedeschi con il Münzverein a partire dal 1838, ma anche la Svizzera affronta il problema di ridurre la diversità monetaria. La Svizzera fino al 1848 e alla guerra civile, breve e non molto cruenta, ma guerra civile, in cui si è finalmente deciso di rafforzare il legame confederale, la Svizzera aveva una moneta diversa in ogni cantone e sistemi molto differenziati. Le unioni monetarie sovranazionali sono anche una caratteristica interessante di questo periodo nel quale si inserisce l'unificazione monetaria italiana. La prima è quella di Napoleone e dei stati satelliti, Francia, Regno d'Italia napoleonico, Regno delle due Sicilie, ma anche tentativi verso il Regno di Vestfalia e in altri stati tedeschi, tentativi che non sono andati molto lontani, ma sono stati fatti. L'unione monetaria latina e poi l'unione scandinava, che verrà realizzata poi nel 1872, quando fallisce il tentativo di allargare l'unione monetaria latina in un'unione monetaria europea vera e propria. L'unione latina è quella di queste unioni transnazionali, quella forse più interessante, perché coinvolge più stati che non sono necessariamente destinati a diventare uno stato unico, come era il caso degli stati tedeschi o degli stati italiani. È un'unificazione monetaria transnazionale con un'idea federalista sottostante da parte di alcuni degli attori, in particolare di Parlieu, che era il regista tecnico di questa unione di parte francese, anche se in questo non rifletteva interamente il regno del governo francese. Io ho messo una citazione che mostra quanto volesse andare avanti Parlieu, che voleva fare anche un Parlamento europeo, una commissione europea e una moneta unica europea chiamata l'Europa. Però il tentativo non è andato in porto fino in fondo. L'unione monetaria latina è rimasta fino agli anni 20 del 900, ma perdendo progressivamente peso. Però per farvi capire cosa significava in Italia o altrove, l'unione monetaria latina, dovete guardare questo manifesto, in cui vedete che erano ammesse a circolare le monete di questi cinque stati, ognuna con l'impronta nazionale, in tutti i paesi membri dell'Unione, ma non solo le coniazioni contemporanee, ma anche quelle precedenti dello stesso tipo. Per cui vedete che in questo manifesto del 1887 i francesi riconoscono un diritto di circolare sia alle monete di Napoleone I, re d'Italia, di 75 anni prima, che a quelle dei sovrani piemontesi, alla Svizzera, al Belgio, alla Grecia, in un caos terrificante, perché il cittadino francese o italiano avrebbe dovuto sapere che doveva accettare questi 40 tipi di monete, ma non tutti gli altri. In questo manifesto viene indicato nella parte alta cosa accettare e nella parte bassa cosa non accettare, pena perdere il 30% del valore della moneta se si accetta quella sotto, perché le monete d'argento si erano depreciate in realtà rispetto all'oro in quel periodo e dunque se non c'era un accordo legale vincolante, le monete d'argento venivano prese al peso e il detentore ne perdeva molto valore. Qui ho provato a inserire in una sorta di genealogia le fasi dell'evoluzione dell'unificazione italiana. Non credo che riuscirete a leggere tutto, spero solo di darvi una vaga idea che partendo appunto nel 1796 arriva Napoleone ci sono una buona dozzina di sistemi monetari in Italia, un numero di sistemi monetari superiore a quello degli stati, perché ad esempio venivano cognati monete un po' diverse anche all'interno del stesso stato, tra Sardegna e Piemonte o tra Parma e Piacenza in alcuni casi. Il primo blocco nero che vede il suo in cima è il sistema della lira italiana e del franco francese sotto Napoleone I, che copre tutta l'Italia continentale dai dipartimenti francesi dell'impero napoleonico, cioè Roma, Torino, Firenze, Genova, a il franco di Lucca della sorella di Napoleone, alle lire di Murat a Napoli. Questo poi, malgrado la disgregazione post-napoleonica, sopravvive questo sistema in Piemonte e a Parma e poi viene adottato dai governi risorgimentali come bandiera dell'unificazione politica, come simbolo della loro volontà di essere uniti come paese e alla fine tutti gli stati che vengono convogliati all'interno del nascente Regno d'Italia, adottano questo sistema della lira italiana prima ancora di aver fatto i passi formali di creazione del Regno d'Italia o di passaggio della normativa che crea la lira italiana del 1862. Questa è un'altra maniera di rivedere la stessa immagine. Immaginate il cerchio più esterno, come tutti i sistemi monetari esistenti nel 1796, che si deducono un pochettino nel secondo cerchio, quello del 1858, perché vengono unificate le monete di Genova, Piemonte e Sardegna in una sola, oppure Venezia, Milano e Mantua in un'altra e così via. Progressivamente si riduce il numero di monete, ma solo con unificazione completa vengono ridotte da uno sola, con una serie di passaggi. Perché era così importante fare questa unificazione monetaria? Basta dare un'occhiata alla complessità dei diversi sistemi monetari e delle operazioni che andavano fatte per fare una transazione ordinaria, quotidiana. Qui ho provato a individuare la serie di sistemi monetari esistenti in alcuni stati prima dell'arrivo di Napoleone. Guardate ad esempio Roma, in cui invece della semplicità della lira del Regno d'Italia, che era una lira uguale a centocentesimi, esistevano le doppie di oro, sistemi di scudi, testoni, papetti, lire, paoli, giuli e carlini in argento, bagliocchi e quattrini in rame, con un rapporto che come vedete è tutt'altro che semplice, perché si procede per multipli di 3, di 2, di 10, di 15, a seconda dei casi. Nel stesso caso si applica anche agli altri stati, in alcuni più difficili come Napoli, in cui si passa dalla moneta da un cavallo, che era una monettina di rame nel 400, non esisteva più nel 700, ma nominalmente esistevano le monete da un grano da 12 cavalli, che erano i pezzi più piccoli che si potevano trovare in circolazione sostanzialmente, fino all'oncia che a sua volta ha un rapporto di 1,2 terzi con la doppia e così via. Questo sistema era ovviamente molto complesso e portava a difficoltà di calcolo. Immaginate una transazione fatta senza calcolatrice, questa è una pagina di un manuale di cambio e francese della fine del 700. Ho messo accanto le due monete reali effettive, cioè una moneta da uno scudo d'argento di Milano e uno zecchino d'oro di Venezia. Questa è la descrizione di come si fa materialmente l'operazione di cambio, di calcolo per il cambio, per questo passaggio di due monete di due stati confinanti, con intense relazioni commerciali e due stati tra i più ricchi dell'Italia. Ovviamente bisognava per fare queste cose anche passare per la verifica del peso delle monete e del loro rispetto dei minimi per avere corso legale e per semplificare le operazioni non si andava a mettere sulla bilancia il grammo, il mezzo grammo, il quarto di grammo, si usavano dei pesi premarcati che vedete sul lato sinistro della fotografia e a destra le monete reali e un bilancino di quelli portatili. C'erano dei manifesti che indicavano i tassi della parità del cambio, però c'erano anche queste cedole di conversione con il tasso di borsa della giornata, il corso dei cambi di Roma o di Milano, in alcuni casi circolavano manoscritti con i dati del giorno, in altri erano stampati. Tutti questi elementi ovviamente rendevano le transazioni quotidiane assai complesse. Questo poi significava anche avere molte monete, molte zecche aperte, il numero di zecche non corrispondeva con il numero di stati, ad esempio vedete su questo grafico la curva blu scuro indica il numero di zecche attive, c'è una prima punta massima di 26 zecche attive nel 1797, questa è la conseguenza dell'arrivo appunto dei francesi in Italia, un'inflazione da zecche minori che cognono rame per cercare di far fronte alla scarsità di monete, in particolare nello stato pontificio ogni piccolo centro viene autorizzato a battere moneta. Vedete che il periodo napoleonico riduce fortemente le zecche ma certamente non le porta una sola, una leggera ripresa con la restaurazione e poi a partire dal 1875 una sola zecca, quella di Roma, effettivamente operativa. Dal punto di vista delle banche di emissioni invece si vede una forte crescita a partire dagli anni 30 in particolare e fino alla fine degli anni 50 dell'Ottocento il numero di banche di emissioni che cala con l'unificazione però rimane elevata fino alle sei banche di emissioni attive dopo il 1870 e poi ridotte a tre con la creazione della Banca d'Italia nel 1893 e a una sola con la concessione alla sola Banca d'Italia del diritto di emissioni e banconote nel 1926. Per cui la piena unificazione sia di monete che di carta moneta dal punto di vista dell'emissione è solamente nel 1926 dopo cicli leggermente sfasati tra carta moneta e banconote, una cosa assolutamente non inusuale nel panorama europeo perché sia in Gran Bretagna che in Germania nella metà dell'Ottocento più banche avevano diritto di battere carta moneta e non solo la banca più vicina al governo centrale che non poteva essere ancora definita come banca centrale. Le tappe poi dell'unificazione monetaria per la mostra abbiamo cercato di suddividerle in otto categorie che sono poi quelle che riflettono alcune delle vetrine della sala C della mostra dove sono esposte poi gran parte delle monete reali e riflettono le varie fasi, lo stato della monetazione prima dell'arrivo di Napoleone, il primo rinnovamento nelle immagini ma non nei sistemi monetari nel periodo della Repubblica Giacobina del 1796-1800, l'unificazione monetaria gestita di Napoleone prima in questo quindicennio in cui controlla gran parte d'Italia, la restaurazione, i governi provvisori e poi l'unificazione con l'Unione monetaria latina e il corso forzoso che hanno una notevole influenza sulle vicende del periodo. L'arrivo dei francesi in Italia, questa stampa rappresenta l'arrivo appunto a Roma con la creazione della Repubblica Romana nel 1798, porta un rinnovamento dell'immagine anche delle monete, si ritorna ai simboli della Roma classica, simboli anche Giacobini che però hanno un sapore molto classico, vedete questa medaglia della Repubblica Romana in cui viene inserito sia il beretto frigio che i pugnali con i quali Bruto e Cassio hanno ucciso Giulio Cesare come simboli di repubblicanesimo riproposti insieme a queste figure allegoriche della libertà appunto con fascio, beretto frigio, livella eccetera. Non sempre questi simboli vengono ben accetti, questa è una Repubblica partenopea e a sinistra la Repubblica calpesta il giogo, simbolo dell'oppressione, calpesta anche una corona reale rovesciata. A destra qualche sostenitore dei Borboni invece ha sfigurato la Repubblica con uno scalpello e gli ha trapassato la gola con una spada e ha anche cancellato giogo e corona calpestati come segno appunto di sfregio. Dopo la battaglia di Marengo Napoleone viene a controllare sostanzialmente gran parte dell'Italia, non subito perché controllerà lo stato del regno delle due Sicilie solo dal 1806 e lo stato pontificio dal 1805 nella sua interezza, però si crea questa situazione come dire rappresentata in maniera satirica da Gilray come la divisione di zone di influenza tra Gran Bretagna e Francia, con questa famosa stampa. La fase di normalizzazione passa per la creazione appunto di questo Marengo, cioè la moneta da 20 lire o 20 franchi, quale perno del sistema monetario aureo sia in Francia che negli altri paesi di Natina, questa è una moneta cognata dopo la battaglia di Marengo della Repubblica Subalpina con il motto l'Italia liberata Marengo, moneta cognata in francese, infatti la Repubblica Subalpina dopo due anni è stata incorporata come dipartimento dell'impero francese. Questo è un manifesto di Napoleone I per il ritiro delle monete austriache e la sostituzione con queste lire italiane e questa è l'immagine che avevano queste monete dell'unificazione napoleonica. Nel nord Italia chiamato appunto regno d'Italia lire napoleoniche, lire italiane. Nel sud per due o tre anni Murat a partire dal 1812 conia lire d'argento e d'oro che però non riescono a imporsi molto nella circolazione. In Toscana Elisa Bonaparte conia anch'essa lire ma il resto della Toscana è sotto controllo francese e circolano anche i franchi francesi ma sostanzialmente diciamo che il nord adotta in maniera effettiva e massiccia la lira uguale al franco francese germinale, il centro abbastanza poco e il sud quasi per nulla. Ma il tentativo viene fatto, infatti qui leggete anche il testo di una lettera di Napoleone in cui dice in maniera molto chiara che lui ha una politica deliberata di imporre lo stesso sistema monetario, lo stesso tipo di simbologia e in questo modo vi sarà in tutta l'Europa l'uniformità di moneta che sarà un gran vantaggio per il commercio. Per cui l'idea di unione monetaria è già lì presente. Con la restaurazione tornano i vecchi sistemi ma non interamente appunto. L'Austria in particolare cambia con una frequenza molto forte i sistemi monetari nel Lombardo-Veneto per adattarsi ai mutamenti del prezzo dell'oro rispetto all'argento, per cercare di entrare nell'unione monetaria germanica al Münzverein a partire dal 1858 e subisce anche gli effetti delle rivoluzioni, in particolare nel 48-49, per cui c'è una certa instabilità, però rimane in realtà una circolazione molto forte anche di moneta estera francese, tant'è che pur essendo l'Austria un paese che sceglie il sistema monometallico argentio, nel momento dell'Unità d'Italia, nel nord Italia, anche nel nord Italia sotto l'Austria, c'è più circolazione aurea che non argente dal punto di vista della moneta effettiva. Il Piemonte come detto rimane invece legato, dopo un tentativo di restaurazione della vecchia moneta, rimane legato al franco lira, preparando appunto la strada al fatto che la lira del regno d'Italia sarà poi effettivamente quella del sistema franco germinale. Con il 1848-49 vengono fatte una serie di tentativi di modificare la moneta per uniformarla appunto alla franco lira franco piemontese, in particolare a Milano durante il governo provvisorio che adotta queste lire italiane, lo vedete chiaramente come motto Italia Libra Dio lo vuole, lire italiane, con anche Cattaneo, cioè anche i federalisti che dicevano l'Italia vuole una sola finanza, una sola moneta, come pure una sola legge civile, commerciale, penale, un solo voto di pace e di guerra. A Venezia, Manin, pur passando per fasi più unitarie e fasi più federaliste in cui cambiano i motti, quando è più unitario parla di unione italiana, quando è più federalista parla di alleanza dei popoli liberi su queste monete, ma sono sempre lire italiane che rompono con le lire austriache e con le altre valute di occupazione austriaca. La Repubblica Romana invece, qui vedete la proclamazione della Repubblica in febbraio 1949, rimane al sistema dei bagliocchi romani, sicuramente si può pensare che Mazzini da un lato non si concentrava sulle vicende finanziarie durante una situazione di stato d'assedio quasi immediato della Repubblica, dall'altra non aveva nessun interesse a uniformarsi al sistema piemontese di Carlo Alberto a quel punto e vengono ripresi simboli repubblicani, il motto Dio è popolo, ma rimane un vecchio sistema sia per la carta moneta che per le monete effettive. Questa è la presa, l'assedio di Roma a Porta San Pancrazio alla fine della Repubblica Romana. Quando arriva poi la svolta effettiva del 1859, vediamo che poi i governi provvisori che cominciano a battere moneta dopo aver cacciato gli antichi sovrani in Toscana e in Emilia, non aspettano al 61 nel 62, qui avete alcune monete del 1859, in cui già a Firenze monete battute a nome di Vittorio Emanuele re eletto, senza indicare se primo o secondo, cioè se primo d'Italia o secondo della dinastia piemontese, però una lira italiana, quello già chiaro, Firenze 1859. Analogamente a destra a Bologna, vedete le lire, semplicemente non ha indicato in nessun caso che è il Regno d'Italia, perché ancora non esisteva. Invece per quel che riguarda la spedizione garibaldina nel mezzogiorno, Garibaldi non conia mai moneta effettiva, si limita a raccogliere finanziamenti usando la moneta locale come moneta di conto, diciamo. A Napoli, quando cerca soldi per la redenzione di Roma e Venezia, prende Carlini. Più tardi, nel 1867, quando cerca di fare la spedizione, che poi finisce a Mentana nel 67, raccoglie denari in lire italiane, però quando arriva in Sicilia, c'è un passaggio interessante di Polito Nievo nei suoi diari, il primo giorno di arrivo a Marsala, Nievo dice abbiamo trovato nelle casse del comune solamente delle monetacce di rame e abbiamo dovuto imporre il corso forzoso dell'oro, perché noi solo quello avevamo, perché l'avevamo raccolto tramite la sottoscrizione per il milione di fucili e visto che l'oro era predominante nel nord Italia e che era così sconosciuto che nel sud non lo accettavano, abbiamo dovuto imporre addirittura il corso forzoso dal primo giorno, primo atto, praticamente all'ingresso delle truppe garibaldine in Sicilia. L'unificazione monetaria viene poi completata nel 61-62 sulle basi già dette, la lira piemontese sostanzialmente viene trasformata in lira italiana, le mutazioni iconografiche sono anche minime, ma il processo di conversione avviene in realtà con una certa lentezza, nel 61-62 mancano ancora Roma, Venezia, Trento e Trieste che progressivamente entreranno poi nel Regno d'Italia e vedranno la conversione delle loro monete, ma non solo, mancano anche all'appello molte delle monete d'argento del mezzogiorno. Il mezzogiorno negli anni 50 dell'Ottocento, essendo uno dei più grandi stati monometallisti argentei in quel momento in Europa, aveva avviato una coniazione abbastanza straordinaria rispetto agli altri stati al punto di vista quantitativo, per cui le piastre d'argento napoletane continuano a rimanere in qualche modo o in circolazione o più spesso tesaurizzate e riemergono anche semplicemente per il pagamento di tasse o di dazzi ancora per più di 30 anni. Fino agli anni 90 e dell'Ottocento il governo italiano accetterà piastre d'argento e questo sarà poi anche un problema dal punto di vista del rapporto con gli altri stati europei perché l'Italia cercherà di trasformare queste piastre d'argento in lire e lo farà anche negli anni in cui gli altri paesi membri dell'Unione Monetaria Latina hanno ormai deciso che vogliono più solo l'oro e non vogliono più ammettere in unione ulteriori connessioni d'argento e sospettano chiunque coni di farlo per speculazioni finanziarie prendendo sul mercato argento deprezzato e coniandolo a prezzo legale più elevato grazie al rapporto bimetallico 15,5 a 1 del bimetallismo mentre l'Italia spiega ogni volta noi stiamo semplicemente cercando di sbarazzarci delle quantità di argento borbonico che continuano ad entrare nelle nostre casse e che noi dobbiamo accettare in base alla nostra legge monetaria ovviamente poi la parte finale dell'unificazione monetaria italiana viene facilitata dalla sconfitta di Napoleone a Sedon che aveva facilitato l'unificazione monetaria italiana facilitando ovviamente quella politica nel 59 e in parte nel 60 dopo Sedon Napoleone III viene insultato, caricaturizzato e trasformato in soldato prussiano anche nelle monete satiriche ma è ancora più interessante vedere questo aspetto dell'uso satirico o politico della moneta per alcune di queste monete italiane vedete in particolare la moneta con Ferdinando II, re di Napoli cui gli oppositori hanno contromarcato sul collo le parole boia o bomba dopo che aveva bombardato la città di Messina alla fine del 1848 in un'operazione di riconquista della Sicilia che si era ribellata il 48 era cominciato a gennaio in Sicilia e solo dopo era passato in Francia e nel resto del mondo e queste monete non circoleranno molto ovviamente perché saranno messe da parte per precauzione o eliminate quando capiteranno in mano agenti governativi però anche Pio IX, anche Vittorio Emanuele III verranno poi a loro volta diventeranno anche loro oggetto di satira in questo caso trasformando Vittorio Emanuele II in Papa o il Papa in Vittorio Emanuele II o addirittura anche Napoleone III con questi interventi ulteriori per concludere la storia della lira di questo periodo potrebbe essere sintetizzata un po' come la storia di un franco infatti questa stampa del 1867 quando parlo della lira la chiama franco e lo immagina diviso in soldi questa immagine mostra come il franco, cioè l'ira passando attraverso le tasse sulla ricchezza sulla sovrimposta comunale sugli effetti del prestito forzoso della svalutazione della carta moneta a causa del corso forzoso scende dall'essere stata una moneta che valeva una lira franco cioè 20 soldi a solo due soldi cioè secondo gli autori satirici questo disegno ha perso il 90% che è ovviamente un'esagerazione satirica però è interessante mostrare come ancora sei anni dopo la proclamazione dell'anni d'Italia nel nord Italia era facilmente scambiato o considerato sinonimo il termine franco e il termine lira a indicare quanto forte fosse l'unità e l'uniformità concepita tra queste due valute grazie grazie Luca sei stato non solo efficace ma anche assolutamente nei tempi quindi tra l'altro appunto Luca ha curato uno dei curatori della mostra e in particolare la stanza C dove vedete molte di queste monete davvero e molte altre cose tra cui appunto diverse monete tra l'altro che sono di una collezione che normalmente non è disponibile ai visitatori agli esperti ai numismatici anche solo ai ai curiosi di questioni monetarie quindi la stanza C la vedrete è interessante la mostra adesso c'è davvero tempo per domande e come avete capito Luca è assolutamente in grado di rispondere a qualsiasi domanda anche solo di curiosità e in particolare chi non è un esperto davvero incoraggiamo a fare la sua domanda quindi anche se adesso affronteremo due minuti di silenzio no? c'è almeno già il primo prenotato grazie una curiosità il professore ci ha mostrato la complessità derivante dalla circolazione di monete di diversi paesi di diverse epoche nei vari stati e a un certo punto ha mostrato anche un manifesto nel quale un regime credo italiano napoleonico mirava al ritiro delle monete austriache la mia domanda è sia per diciamo così ripicca politico militare nei confronti di paesi confinanti o addirittura nemici sia per limitare questa complessità monetaria c'è stata spesso questa tendenza di paesi fondere monete metalliche di altri paesi e quindi coniare con quel metallo monete nazionali oppure sono stati casi sporadici e isolati diciamo che i governi generalmente amano avere un sistema monetario che rifletta il regime politico esistente perché si considera che è forse l'immagine politica del regime che veicola i simboli e i valori di un regime che più si diffonde nella popolazione quella della moneta per cui è quasi sistematico il tentativo di modificare il sistema monetario non è un caso che governi che sono durati così poco come quello della Repubblica Romana o del governo provvisorio di Milano il 48 o della Repubblica di Venezia il 48 abbiano immediatamente battuto moneta indicando come motivazioni la volontà di mettere i nuovi simboli delle libertà ritrovate o nel caso di governi tra virgolette legittimi conservatori di antico regime mostrare il trionfo degli antichi valori per cui il tentativo viene sempre fatto però tra il tentativo nella realtà c'è sempre una grossa differenza molto spesso vengono avviate campagne di riconiazione e poi ci si rende conto che il costo la complessità la disponibilità di zecche è tale che non funziona per cui in gran parte degli stati italiani preunitari questi processi partivano ma non finivano mai venivano sospesi e la realtà era che circolavano sì i nuovi sistemi i nuovi simboli i nuovi regime ma sempre assieme a monete del regime opposto o di regimi vari diversi per cui se si va a vedere ad esempio la circolazione francese fino a quando nella metà degli anni 50 e dell'800 Napoleone III ha riavviato la codiazione delle monete di rame circolavano ancora dei soldi delle monete di soldi del 600 delle monete di Luigi XVI delle monete della rivoluzione francese di Napoleone I di Luigi XVIII della rivoluzione del 48 repubblicana e così via e di Napoleone qualche prova di Napoleone III per cui coabitavano nel sistema monetario le prove storiche di tutti i mutamenti di regime istituzionale che erano avvenuti fino ad allora e questo valeva sia per la Francia che per gli altri a maggior ragione più piccolo era lo Stato minore era il controllo che il governo aveva della circolazione monetaria gli stati più piccoli coniavano una volta ogni tanto magari ogni qualche decennio alcune monete magari solo monete di rame perché non avevano i soldi per fare di più e soprattutto è una circolazione che era ovviamente dominata da monete provenienti dagli stati vicini vicini di molto o anche un po' più lontani ma se molto grossi ad esempio Modena aveva sia monete piemontesi che austriache ma anche francesi e in case appunto come Modena più del 90% della circolazione era estera e dunque il controllo dei simboli politici sulle monete era in realtà molto limitato e quanto più piccolo era lo Stato quanto più era limitato ma io ho una curiosità relativa al periodo in cui esistevano in Italia sei banche di emissione mi chiedo se esistesse al tempo una qualche forma di regolazione dell'offerta di moneta oppure come poteva avvenire qualche tentativo da parte di un meccanismo di coordinamento politico di in qualche maniera oppure veniva totalmente lasciato al mercato in base all'afflusso di riserve auree o bimetalli che non lo so presso queste banche di emissione allora lì si possono fare due casi per capire questo sistema il primo è quello italiano e il secondo è quello inglese cominciare da quello inglese per mostrare come può essere caotico teoricamente questo sistema fino alle leggi fatte da Peel nel 1844 esistevano decine di banche di emissioni private locali magari anche molto piccole che potevano emettere carta moneta in occasione di fasi negative del ciclo economico molte di queste banche andavano fallite e dunque carta moneta di queste banche diventava priva di valore di colpo aggravando l'effetto crisi finanziaria ciclica nel 1844 Peel ha regolato il sistema ha deciso che tutte le banche che avevano emesso carta moneta potevano continuare a emetterla ma non aumentarla e ogni volta che si fondevano o andavano fallite i loro diritti passavano alla banca d'Inghilterra cosicché ha ottenuto senza eliminare i diritti acquisiti una progressiva centralizzazione del diritto di emissione verso la banca d'Inghilterra dunque una maggiore stabilità questo sistema fa sì che ancora oggi esistano due banche di emissioni in Scozia che possono emettere carta moneta che teoricamente vale per tutta la Gran Bretagna anche se ne amano poco in Inghilterra il sistema italiano sostanzialmente si basava su un numero minore di banche però su una copertura di circa un terzo di solito dipendeva un po' dagli stati preunitari ma era più o meno il rapporto che si poteva coniare e battere manconote ma dove esserci una copertura di oro e argento all'interno delle riserve della banca emittente di questi ammontari dopodiché poi erano ovviamente possibili gli scandali e gli abusi che erano una prerogativa molto romana peraltro le banche romane le hanno fatte un po' di tutti i colori in alcuni casi ad esempio hanno emesso più volte le stesse manconote con lo stesso numero di emissione il fallimento della banca romana nel 1893 e poi l'occasione proprio della creazione della Banca d'Italia e della riduzione a sole tre delle banche di emissione per cui il meccanismo era alla fine di porre dei limiti alle quantità di emissione in funzione di quante erano le riserve di oro e d'argento fintanto che il sistema era bimetallico e poi una tendenziale centralizzazione del diritto di emissione che però teneva conto dei vincoli politici Cavour già avrebbe voluto fare al momento di unificazione una banca di emissione unificata però gli interessi regionali erano tali che i toscani che avevano una certa influenza politica sono riusciti a mantenere le due banche toscane di esistenza il mezzogiorno è riuscito a mantenere il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia come banche di emissioni separate e poi quando Roma nel 70 è diventata parte del Regno Italia anche la banca romana ex banca degli stati pontifici ha mantenuto il diritto di emissione ma lì fintanto che c'erano resistenze politiche rimanevano in vita ma tendenzialmente si andava verso una centralizzazione appena le condizioni politiche permettevano di farlo buonasera senta volevo sapere quali furono le motivazioni che spinsero anche i paesi dell'America o sotto dominio coloniale a unirsi o bilateralmente o unilateralmente all'unione monetaria latina che sappiamo che anche nazioni come il Venezuela il Perù o sotto dominio coloniale come il Congo le Comore eccetera si unirono de facto all'unione monetaria latina poi una seconda curiosità legata ma un po' staccata quali furono le cause della fine dell'unione monetaria latina grazie allora i paesi dell'America latina hanno adottato de facto in molti casi dei sistemi monetari compatibili con quelli dell'unione monetaria latina hanno anche fatto domanda di adesione in molti casi ma nessuno di loro è mai stato accettato e il motivo per cui non sono stati mai accettati è anche una delle ragioni per cui poi l'unione latina è andata a morire sostanzialmente i primi anni di vita dell'unione monetaria latina hanno mostrato che fare un'unione monetaria con alcuni paesi finanziariamente molto deboli rappresentava un problema in particolare i due esempi più clamorosi erano quelli dello stato pontificio della grecia perché lo stato pontificio aveva cercato di entrare in unione latina aveva fatto domanda e tirando in lunga i negoziati aveva emesso 8-10 volte più moneta di quanto ha messo nell'unione monetaria latina sotto forma di moneta depreciata d'argento la grecia aveva dichiarato corso forzoso mentre stava avviando le coniazioni di monete dell'unione latina e i banchieri francesi che le coniavano per il loro conto avevano cercato di trarre profitto nella coniazione non più portando le monete in grecia ma vendendole a prezzo scontato direttamente a parigi allora questi fatti hanno fatto sì che i paesi più forti dell'unione latina dal punto vista monetario come la svizzera e la francia hanno prima cercato di controllare quanto più possibile i paesi più deboli imponendo limiti e questo valeva anche per l'italia che aveva introdotto anch'essa corso forzoso nel 1866 ma nella loro corrispondenza dicevano abbiamo imparato una lezione saremo molto più attenti nelle future candidature di adesione più aumentano i paesi più sono lontani più sono deboli più difficile diventa monitorare il loro rispetto dei patti presi e non avere conseguenze sulla circolazione monetaria nostra per questa ragione sono stati respinti tutti i paesi balcanici che hanno fatto domanda negli anni sono stati respinti tutti i paesi dell'America Latina poi de facto molti di questi paesi hanno legato il loro sistema monetario a quello dell'Unione Monetaria Latina perché quello era comunque un periodo di uniformità di aumento del libero scambio di semplificazione di crescente uniformità la loro speranza era anche di facilitare l'accesso ai mercati finanziari e Parigi era un centro finanziario importante non grosso come quello di Londra ma sempre tentato di fare concorrenza a Londra come centro internazionale per i prestiti e la Francia giocava anche politicamente queste partite ad esempio ammetteva nella circolazione francese l'oro russo nel momento in cui prestava denaro alla Russia sia in ottica politica antitedesca sia con l'intento di facilitare il pagamento degli interessi da parte dei russi ai cittadini francesi su questi prestiti esteri per cui si mettono insieme questi fattori politici fattori di gestione del debito pubblico e di alleanze tendenza all'uniformità semplificare e poi anche semplicemente una forma di acquisizione di credibilità importando il sistema più prestigioso più uniforme bisogna anche capire che molti di questi paesi dell'America Latina avevano dei sistemi che erano inizialmente tutti legati alla Spagna per cui erano abituati ad avere un sistema uniforme basato sulla pezzo da Otto Reales d'argento spagnolo che però nel corso dell'Ottocento aveva perso la sua forma di dominio internazionale all'inizio dell'Ottocento ancora i pezzi di Otto Reales circolavano dalla Cina all'India all'Europa quando l'Inghilterra nel 1797 ha adottato il corso forzoso delle banconote e l'oro e l'argento è scomparso in presenza di un timore di invasione francese la misura di emergenza inglese è stata di prendere i pezzi di Otto Reales spagnoli coniati in Messico in America Latina e contromarcarli con il proprio simbolo l'America Latina è passata da aggrapparsi legarsi a una moneta credibile conosciuta internazionalmente e dunque utilizzabile anche all'estero come l'Ottocento Reales a legarsi al nuovo standard coniato da più monete più riconosciuto internazionalmente che era quello dell'Unione Latina perché appunto non era solo Francia Italia Belgio Svizzera e Grecia ma erano anche tutti i paesi che andavano creandosi nei Balcani dal disfacimento dell'impero ottomano erano anche appunto gli altri paesi dell'America Latina e alcuni paesi dell'impero coloniale francese in Africa e d'altrove però non erano mai pienamente membri quando poi parliamo appunto delle cause dello scioglimento dell'Unione Latina da un lato l'Unione Latina si era autolimitata aveva deciso di non espandersi e era stato limitato quanto più possibile la circolazione effettiva di questo sistema monetario congiunto e non solo monete solo monete d'oro e d'argento poi non più neanche le monete d'argento di piccola denominazione era rimasto sempre fin dall'inizio fuori il rame poco importa però era rimasto fuori soprattutto la carta moneta e la carta moneta che era una parte minoritaria della circolazione monetaria negli anni 60 al momento della prima guerra mondiale era più del 90% della circolazione monetaria con lo shock della prima guerra mondiale si sono deprezzati sono saltati i legami di tasso di cambio di 1 a 1 tra lire e franco le monete reali sono sparite hanno cercato di surrogati di tutti i tipi buoni alcune monete cognate in Italia si chiamano buoni da una lira non erano le linee dell'unione latina quando poi a metà degli anni 20 gli stati si sono posti la questione di tornare a un sistema monetario effettivo elementi legato alle monete d'oro e dunque stabilizzare le loro valute dopo l'inflazione bellica ognuno ha stabilizzato a un livello diverso ovviamente a quel punto il tasso di cambio unico non c'era più l'unione monetaria ha cessato di funzionare realmente con la dichiarazione della prima guerra mondiale e teoricamente e giuridicamente cessa nel 31 dicembre del 1926 perché ognuno ha preso la sua strada e strade diverse la lira svaluta rispetto stabilizza un livello più basso rispetto a quello prebellico ma più alto rispetto alla Francia la Francia stabilizza molto in basso la Grecia infinitamente più in basso la Svizzera invece decide di mantenere la parità aurea prebellica per cui la Svizzera ha mantenuto lo stesso valore del franco svizzero oro dal 1865 diciamo per l'Una Tina ma in realtà dal 1850 fino al 2000 quando ha sospeso la convertibilità aurea dell'oro per cui è stato un sistema che nel caso della Francia il franco germinale che ha dato luogo all'Una Tina è durato teoricamente circa 125 anni in Svizzera è durato 150 anni benissimo mi sembra davvero tutto chiudendo sull'Unione Monetaria Latina e quindi ringraziamo ringrazio a nome della Banca d'Italia Luca Inaudi per il suo intervento ringraziamo voi che siete venuti ad ascoltarlo e il prossimo appuntamento mercoledì prossimo con il professor Romanelli grazie a tutti buonasera grazie 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 a tutti